C'è una nuova collocazione per la Casa della Poesia di Via Valerio, sarà destinata per le lezioni dell'Accademia di Belle Arti. In cosa consiste questa collaborazione, se così possiamo chiamarla? Senz'altro la possiamo chiamare così, come con altre situazioni scolastiche, delle scuole superiori, dell'università. Stiamo cercando di dare gli spazi che servono a queste entità perché veramente in questo caso l'Accademia Belle Arti ci ha chiesto degli spazi e abbiamo dedicato anche questo spazio della Casa della Poesia proprio per agevolarli nelle loro attività che sono attività che servono molto a loro ma servono alla città per far crescere queste entità scolastiche perché veramente ce n'hanno bisogno. Abbiamo anche destinato alcuni spazi della data, quelli che ancora non sono completati ma che possono servire loro per dei laboratori, però in quel caso ancora devono essere allestiti. Quindi però la Casa della Poesia già è dedicata appunto all'Accademia perché gli serviva questi spazi urgenti e sono stati già allestiti e quindi questo ci fa chiaramente molto piacere. Sarà una concessione gratuita e poi se qualcuno invece volesse visitare la Casa della Poesia o creare degli eventi al suo interno come funziona l'organizzazione? Sicuramente c'è una disponibilità a convivere altre attività però ecco è una concessione che facciamo questa all'Accademia appunto perché crediamo che sia un investimento opportuno e adeguato. Questo è fatto nell'ambito di una collaborazione con l'amministrazione quindi anche loro creano delle attività che chiaramente sono nell'interesse dell'amministrazione. Quindi abbiamo per un periodo dedicato questa struttura all'Accademia e chiaramente stiamo ricercando anche altri spazi perché è interesse della città far crescere e dare agevolazione a queste entità che sono importanti. Stiamo lavorando come ho detto con l'università, con gli istituti superiori, tanti istituti che sono presenti in città.